Dopo la grande delusione per l'uscita di Michela Moioli in semifinale, per quanto riguarda appunto lo snowboard cross femminile, ci pensa Omar Vizintin il giorno dopo a riscattare lo snowboard cross azzurro conquistando una medaglia, non dico sperata perché comunque partiva con ambizioni potenzialmente di podio, però non era comunque tra i grandi favoriti, appunto a conquistare una medaglia. Un grandissimo risultato per il 32enne che appunto riesce a cedere alla finale e poi a lottarsela alla pari con gli avversari per conquistare una medaglia in questo caso appunto di bronzo. Ma partiamo subito da quelle che sono state le qualifiche, qualifiche che sono state vinte diciamo da Elliot Grondin, il canadese fa registrare il miglior tempo davanti a un terzetto di austriaci con Julian Lüftner, con Dusek e con Emmerle. Bene gli italiani che riescono a qualificarne tre con la stessa posizione di Omar Vizintin, la nona di Sommariva e la diciannovesima di Tommaso Leoni. Per quanto riguarda gli ottavi la grande sorpresa è l'uscita dell'austriaco Dusek che cade e non riesce a terminare la gara, lui che era stato terzo nelle qualifiche esce dunque agli ottavi di finale. Delusione parte anche in casa Italia perché quello che sulla carta partiva come il più forte della spedizione azzurra, appunto Lorenzo Sommariva, anche lui esce e non riesce appunto ad accedere la finale anche lui per una caduta. Si da accedere dunque ai quarti dove l'Italia nel terzo quarto riesce a fare un'impresa veramente fantastica perché Vizintin e Leoni, entrambi qualificati dagli ottavi, riescono ad accedere in semifinale come primo e secondo della loro batteria. Una grande prova anche di squadra quella dei due azzurri che riescono appunto a sconfiggere i rivali e ad accedere alla semifinale. Grande risultato soprattutto per Leoni che appunto non era mai andato a quadri in Coppa del Mondo, aveva chiuso il diciannovesimo nelle qualifiche per cui già arrivare nei primi otto è comunque un grandissimo risultato per lui. Nella prima semifinale non ci sono grandi sorprese perché i due meglio qualificati, i due più titolati appunto della semifinale, Elio de Grondin e appunto Alessandro Hemmerle, riescono ad accedere alla finale. Nella seconda semifinale troviamo dunque i due azzurri Leoni e Vizintin. Una bella lotta con l'austriaco Lüftner, con addirittura Leoni che riesce a un certo punto a rimanere davanti assieme a Vizintin. Vizintin che non è partito bene ma sappiamo che non è la sua caratteristica l'esplosività al cancelletto però ha gestito benissimo le gobbe e i dossetti nella parte centrale della pista, l'ha gestito veramente benissimo e è riuscito appunto a portare fuori grande velocità. Nella lotta con Lüftner riesce a favorire anche Leoni che era partito male, era rimasto attardato ma riesce a rientrare addirittura quando l'ultima curva l'austriaco allarga riescono a passare davanti i due italiani per cui per un po' ci ho sperato. Poi purtroppo Leoni sul salto finale si scaccia troppo presto, perde velocità invece di guadagnarla e alla fine chiude quarto della sua semifinale però riesce a passare invece Omar Vizintin tranquillamente in seconda posizione alle spalle di Lüftner. Si accede dunque alla finale con due austriaci, Alessandro Hemmerle, Julian Lüftner con il canadese Elliot Grondin e appunto con l'italiano Omar Vizintin. Al lancio ancora una volta Vizintin è il peggiore, è in quarta posizione mentre parte benissimo il canadese Elliot Grondin un po' come aveva fatto anche in semifinale. Al canadese si accoda subito Alessandro Hemmerle, una bellissima sfida quella tra il canadese e l'austriaco per la conquista dell'oro. Praticamente si crea una finale con due sfide perché davanti ci sono l'austriaco e il canadese, dietro ci sono l'altro austriaco Julian Lüftner contro Omar Vizintin per la conquista della medaglia di bronzo. Un Omar Vizintin che ancora una volta riesce ad interpretare alla grandissima la parte centrale di pista, va da prima ad affiancare e poi a sorpassare Lüftner, riesce a infilarlo in curva. Nel finale addirittura si avvicina a Hemmerle Grondin, per un po' ci ho sperato perché sembrava avesse anche più velocità, sui dossetti finali però riescono di nuovo a portare fuori velocità il canadese e l'austriaco. Comunque un Omar Vizintin che conquista una grandissima medaglia di bronzo, un grandissimo risultato per lui che partiva diciamo con maggiori chance di podio a Pyeongchang 2018 dove invece fece una prova un po' deludente e non riuscì a salire sui primi tre gradini del podio. Per cui adesso per quanto riguarda lo snowboard cross manca la prova a squadre a coppie di sabato, onestamente sono abbastanza fiducioso perché credo che Moioli avrà una fame veramente assurda dopo l'uscita in semifinale, sono sicuro che ce l'avrà conoscendola. E Omar Vizintin ha dimostrato di saper interpretare questa pista veramente al meglio delle sue possibilità, per cui credo che la coppia sarà Moioli-Vizintin per quanto in Coppa del Mondo sia arrivata una vittoria nello snowboard cross squadre con Moioli accoppiata però con Sommariva. Però un Vizintin su questa pista sembra essere veramente in grado di interpretarla alla meglio, per cui immagino che la coppia sarà Moioli-Vizintin e penso possano avere comunque delle ottime chance di salire sul podio. Comunque ragazzi, è anche per questo di tutto, mi piace di lasciare un commento, mi piace di iscrivervi, se io ci sono la nostra paginista e vi ci vediamo a un prossimo video.